Un viaggio musicale ai confini della realtà E segui il sonido Segui la potenza musicale di Joey Che te conquiste A fare che la musica vada Joey E noi è l'ipnosi musicale Ipnosi musicale Joey, ti diponte Ipnosi musicale Joey, Joey, Joey E.G. Conte E.G. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Salutiamo tutti gli amici di Vicenza che sono con noi. Grazie. Mi sembra che il DC Gioichi di Conte abbia intenzione di esagerare. Inizia a salire Gioichi di Conte. Grazie a tutti. 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 Anticipazione musicale. Grazie a tutti. 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 Salute a tutti. Grazie a tutti. Salute a tutti. Grazie a tutti. Salute a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Salute. e a tutti. Salute a tutti. Grazie a tutti. tutti. e a tutti. e a tutti. 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 ma... ma... e... a tutti. 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 e... 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 a tutti. a tutti. e... che... che... e... e... ... e... e... vivere... e... a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. e... a tutti. e... 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 ... e... 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 Saluta anche la tribù di Piero che è con voi. Saluta Caldafranco. Sì. Lo facciamo ripartire. Perché no? È il sabato notte della chiusura dei sabati. Arriverà aperta la domenica poveriggio. Allora, reinizieremo questa grande avventura musicale ad iniziare dall'ultimo sabato di agosto. Se non venite non mi salutate più, eh. Non mi salutate più, eh. Saluta, saluta. Tutti belli abbronzati, ci ritroveremo tutti fighi più che mai. Torso nudo, i ragazzi. E le nostre ragazze più guerriere ancora, più crudeli, con le tette fuori. Sarà una storia meravigliosa. Mario Libero? Eccolo salutato. Mario Libero. È rotto. Si è scassato, Joyce. Voglio tutta la potenza di cui siete capaci. Si alzano le mani. Questa è la grande tribù. Nessuno può fermarla. Tutti. Tutti. Pronti a saltare. Pronti. Vai via di testa. Saltare. Salutiamo anche Anna. Il numero di telefono non lo sai. Il numero del condominio. Dai ragazzi, non mi stressate così, eh. Dai. Ladies and gentlemen. Adesso è il momento del cambio della consola. Il grazie è sentito anche da parte del DJ Margeo Dance. Grazie ragazzi. Thank you. Grazie. Un momento. E adesso... Arriva direttamente. È arrivato proprio adesso. Vedi che sto per fare il cambio della consola. È arrivato proprio adesso con l'aereo proprio dalla Columbia. Si vede l'impostazione leggermente columbiana. Con noi. È voluto essere presente. Ha fatto un grosso sacrificio per questo che dobbiamo ancora fargli un urlo maggiore. Con noi. Che di grande. Che di grande. Che di grande. Ormai lui ha passato i confini e è andato a portare la nostra musica al di là delle ante ha esportato il genere Italian Tecno all around the world in una notte semplicemente speciale da vivere a livello totale e assoluto ha già partecipato in ordine d'apparizione sua maestà a Ricky Leroy con il DJ Reside Marzio Tenso ed è tempo ancora di sognare, di volare perché alla suprema console c'è il DJ Joy 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 il DJ Reside Marzio Tenso le mani, il DJ Reside Marzio Tenso qui t'ai condividi le mani a un po' sarà doppia pressione sarà superare i limiti e i confini starà ascoltare i limiti e i confini facciamo gli auguri di buon celibato a Marco da Mestre perché si sposa una tragedia ragazzi una tragedia una tragedia una tragedia auguri Marco saluto ai ribelli Gianjo DJ più DJ che sono con noi grazie ragazzi saluto a Genzuki e Stefano da Medino non salutiamo più nessuno perché non è bello fare dobbiamo ascoltare anche la musica altrimenti che palle con la musica Grazie a tutti.